Buongiorno a tutti e bentrovati nel mio canale. Oggi siamo arrivati alla sesta ricetta con i finocchi e prepareremo i finocchi alla pizzaiola. Trovate come sempre tutti gli ingredienti in descrizione. Per prima cosa pulite i finocchi e tagliateli a fette dello spessore di circa mezzo centimetro. Sbollentateli per qualche minuto in acqua salata, scolateli e metteteli da parte. In una padella sistemate i finocchi aggiungendo la passata di pomodoro, il porro tagliato a pezzetti, i capperi, le olive, l'origano, l'olio e un bicchiere d'acqua. Fateli cuocere a fiamma bassa, con coperchio fino a quando saranno belli morbidi, mescolando di tanto Se l'acqua, notate che si assorbe e ancora non sono morbidi, aggiungetene un altro po'. A cottura ultimata regolate di sale e di pepe e mettete il parmigiano, quindi spegnete. Servite subito. Come avete visto, una ricetta veramente facile da preparare ed al costo molto contenuto. Una ricetta con un ortaggio che spesso compriamo e che non sappiamo sfruttare al massimo. Vi saluto e vi aspetto con la settima ricetta. Vi preannuncio che faremo un'altra fresca insalata. Un saluto da Arti Allegra.